A 15 anni dal sisma all'Ordine degli Ingegneri della provincia dell'Aquila ha ospitato i presidenti degli ordini del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dell'Italia. Un modo per fare il punto sulla ricostruzione e anche su un modello l'Aquila positivo che può essere esportabile con uno scambio di conoscenze importante, una tre giorni che ha visto momenti di approfondimento, visite in centro e infine l'Assemblea dei Presidenti. Sono stati tre giorni intensi, un primo giorno in cui abbiamo tracciato un pochettino quella della storia dell'Aquila e della fondazione, dando un serio sguardo a quello che potrebbe essere il futuro, il secondo giorno prima delle visite tecniche all'interno del centro storico dell'Aquila per scoprire tutte e alcune delle bellezze del nostro centro e ieri pomeriggio, venerdì pomeriggio, c'è stato un interessantissimo convegno che si parla del proprio modello l'Aquila. In questa discussione dove erano presenti i titolari degli uffici speciali, il coordinatore dei sindaci e l'ingegner Vittorio Fabrizi. Abbiamo parlato, più che parlato, è stato un salotto aperto alle domande di tutti quanti gli intervenuti, Presidente degli ordini ingegneri, Consiglio nazionale degli ordini ingegneri. Abbiamo tracciato un po' quello che è stata la storia della ricostruzione dell'Aquila, luce d'ombre. Tema importante allo stato attuale è quello del super bonus. Ieri il PD ha lanciato un nuovo allarme e se non si interverrà la ricostruzione del 2009 rischia un blocco attaccato il governo. Anche gli ingegneri sono preoccupati. Il super bonus è stato giustamente affiancato alla ricostruzione per sopperire a quelli che sono i limiti economici di finanziamento per ogni immobile ed è stata un'ottima scelta quella di permettere l'accesso al super bonus per completare gli interventi da sisma sia il 2009 e il 2016. Poi purtroppo ci si è rallentati un pochettino con questa cosa e stiamo ancora, non dico preoccupati, ma forse terrorizzati dalla mancata possibilità di applicare questa risorsa ulteriore per poter portare a termine una ricostruzione non solo fisica ma anche socio-economica nel nostro territorio. Noi ci auguriamo che possa in qualche modo essere riscoperta questa forma di, anche se era un super bonus, in una forma 98%, sì, sarebbe forse anche più appetibile per tutti quanti noi, però credo che qualcosa dovremmo fare per raggiungere l'obiettivo.